E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo la Serie A del Verona, oltretutto ogni volta che seguo il Verona questo vince, quindi a maggior ragione iscrivetevi, 4000 like, va bene che non sto neanche a conteggiare, guardate tutti i video fatti in precedenza, il commento alle parte, calciomercati, recuperate tutto, Vi avviso che questa settimana, da martedì, tre appuntamenti di gaming pass devastante con il Caorle, signori, imperdibile per abbonati base Allora andiamo con Sassuolo Verona, con una vittoria del Verona, molto bella, 4-2, partita aperta con tanti gol, avevamo pronostato che sarebbe stata una partita con tanti gol, era facile immaginarselo Con un Barak che fa tripletta e un Verona che vince una partita molto difficile, ma allora, è vero che il Sassuolo era senza Berardi, però è anche vero che è una squadra Da un lato discontinua molto, un po' come il Verona negli ultimi tempi, però il Sassuolo è una squadra molto discontinua e che soprattutto soffre le formazioni che la mettono Dal punto di vista della fisicità, della grinta, del pressing, dell'impegno, cioè il Sassuolo è pericoloso quando affronta squadre che non è che abbiano tutta sta grinta, tutta questa voglia di spaccare negli interventi, nel pressing, capito? Se il Sassuolo trova squadre che non hanno un pressing così devastante e la mettono dal punto di vista della tecnica, vedi la Lazio, vedi per certi versi anche la Fiorentina in quel di Firenze, può fare male Se trova squadre che la mettono dal punto di vista della grinta, del pressing, va in difficoltà, infatti aveva perso anche col Torino in casa, ha perso col Verona che è una squadra molto simile E vi dico anche di più, è una squadra che ha peccato un po' l'approccio anche a livello mentale e l'ha sbagliato anche Dionisi la formazione Perché ti manca Berardi, non ho capito questa scelta di mettere Muldur come pseudo-trec esterno sulla trequarti, Muldur è un ottimo terzino, fallo giocare lì Oltretutto non gioca neanche spesso e lo farei giocare di più, l'ha messo oggi in un ruolo sbagliato, poteva iniziare la partita con Defrael Dionisi che, vi ripeto, un allenatore che sta facendo vedere degli ottimi margini di crescita, sta facendo vedere delle ottime cose Allenatore che ho potuto anche vedere e osservare da vicino in quel di Venezia dove ha fatto un ottimo lavoro Però ecco, questo Sassuolo qua pecca un po' dal punto di vista della continuità, anche della cattiveria a volte Io Dionisi ce lo vedrei bene anche in un potenziale post-murigno alla Roma, se le cose dovessero mettersi male in quest'anno verso fine stagione Io Dionisi alla Roma ce lo vedrei molto bene Però è vero anche che il Sassuolo è una squadra che è un po' troppo discontinua E che sono convinto che ha margini di crescita che possa fare ancora meglio A volte queste battute d'arresto un po' che minano Per il resto ho visto un'ottima partita di Scamacca, ancora una volta per poco va vicino anche al secondo gol Con quel tiro lì sul palo bellissimo E mi è piaciuto anche Kiriakopoulos Che per comodità chiameremo Kiriopoulos Mi è piaciuto molto Kiriakopoulos, giocatore di sostanza, di verticalità Un bel prospetto da tenere sotto occhio anche per squadre di medio-medio-alta classifica Questo Kiriakopoulos qua Al Verona cosa dire? Parto dalle cose che un po' magari hanno funzionato meno Su tutte penso che al Verona manchi un leader difensivo Perché è vero che Davidovic è infortunato Manca Davidovic da un po' di tempo Però anche lui è un ottimo difensore, è un ottimo stopper Però non è un leader Io per leader difensivo intendo un tuo Ferrari Per intenderci, un tuo Acerbi Cioè un giocatore, un tuo Kier, capito? Uno che guidi la difesa senza nessun tipo di dubbio Senza nessun tipo di remora Questa è un po' una cosa che al Verona manca Che al Verona manca da tempo Forse l'hai sentita meno il primo anno Perché ci avevi Cumbulla, perché ci avevi Ramani Gente di sto tipo che magari era una difesa un po' più liquida Nella difesa di quest'anno per me manca un leader Perché non lo è Ceccherini È andato via anche Magnani Che io onestamente invece ci avrei pensato un po' di più Prima di cederlo così a cuor leggero Però insomma adesso sembra che anche Casale sia sul mercato E dicevo Al Verona manca un leader difensivo Manca qualcuno che lo metti dentro E sai Sai che è lui a guidarti la difesa Sai che indipendentemente dalla partita lo fa Gunter anche per esempio Gunter mi ricorda un po' Ora con tutti i paragoni del caso E non sto dicendo che può fare quella carriera O via dicendo Ma come profilo è un po' uno alla nesta È un difensore tecnico Un difensore pulito Però non è un difensore di lideristica Ti ci vorrebbe un tuo Ferrari Capito? Com'è Ferrari nel Sassuolo Uno che ti gioca tutte le partite È un profilo di affidabilità E che puoi mettere lì Poi un'altra cosa che avrei Su cui sarei andato Sul mercato Parlando di mercato Parlo di Freudo del narcomercato Come diceva il grande gue pequeño Strieger Larsen C'era un'occasione di mercato Per me tra Strieger Larsen e De Pauli C'è un abisso veramente De Pauli è un giocatore Che non è Che ti dia questi fomenti Poi capisco il discorso del mercato Che prendi un profilo giovane Che può fare bene Però tutto sommato Magari mi sbaglio Non è che ci vedo tutto sto milce Cioè De Pauli per me Non è uno che prendi oggi E tra due anni Ti vale 30 milioni Cioè è un profilo Di questo Levarage Qui capito Un giocatore Di questo tipo Strieger Larsen Era uno che Contando che può giocare Sia a sinistra Che a destra È uno che lo aggiungeva In squadra Ti poteva essere Un'alternativa di livello E soprattutto È uno che ti può giocare Come il Kaor Come sta facendo Nel Kaor Del resto È uno che ti può giocare Anche nei tre di difesa E lui poteva anche avviarti Un finale di carriera In cui magari diventava lui Il tuo profilo di lideristica Dietro Capito Senza spendere un cazzo Ti prendevi Un esterno destro Un esterno sinistro E magari un leader difensivo Contemporaneamente Poi per il resto Ottimo Verona A livello di garra Di grinta Di approccio Anche sul 3 a 2 Quando sembrava Che il sessuolo Potesse riagguantarla È stato bravo Il Verona A fare una partita Anche maschia Una partita sporca È stato bravo A metterlo sempre Dal punto di vista Del pressing Della voglia Ho visto un Verona Con più fame E anche con Con ottima qualità Nelle uscite Quando c'hai un barack così Cioè Non è che c'è molto Da vedere Con uno stile di barack così Le difese avversarie Possono Accompagnare solo Partita totale Ma se devo dire Uno che mi ha fomentato Posso? Posso dire che Kalinic Mi ha fomentato Più di barack Quest'oggi Oh Kalinic è entrato Ha menato Ha fatto sentire La presenza Con fisicità E via dicendo Si è fatto menare Ha fatto un passaggio Se l'assist di Kalinic Lo fa di bala Ne parano per un mese Se l'assist di Kalinic Lo fa di bala Ne parano per un mese Poi bravissimo Barack Con il lob A scavelcare Simeone Partita Ecco Diciamo che se devo dire Simeone e Scamacca Che mi è piaciuto di più Dico Scamacca Però Simeone Al merito Di essersi preso rigore Su Chiriches Che è veramente Un difensore Che io non riesco a capire Come faccio a giocare titolare Ma avrò dei limiti io Bene Simeone Comunque quest'oggi Bene Kalinic Bene Barack Bene Caprari Che timbra sempre il cartellino Bene Tamese Quando è entrato Bene anche gli esterni Tutto sommato Lazovic Grande qualità Diciamo un classico Verona Il Verona Tudoriano Nella sua miglior forma Voglia Grinta Paradossalmente Un'attrazione Un po' più difensiva Del Verona Degli ultimi due anni Ma qualche Qualche pecca difensiva In più Però ottimo Il lavoro Della tre quarti Del centrocampo Soprattutto Sempre ottima voglia Ottima grinta Squadra maschia Squadra che aveva Più voglia di vincere E che ha interpretato La partita In modo più Più duro Più diciamo Tignoso Con più voglia Allora Andiamo con i voti Montipò Voto Ma sui gol Non mi è parso Poi così colpevole Direi 6 Cecherini 6 meno Anche lì Barack Ha fatto bene Andarlo a riprendere Cioè C'è l'arbitro Che ti sta parlando Che ti sta monendo Che cazzo fai Che non lo guardi Che non ti giro Capito che eri infortunato Ma non penso stessi morendo Guardalo E prenditi la munizione Perché se trovi Il maresca di turno L'arbitro Così Uno Io se ero arbitro Al cartellino Un po' più Ci pensavo Perché non è che ti parlo E non mi rispondi Girati E fatti ammonire Poi vai dove vuoi 6 meno Gunther Sul gol Un po' colpevole 6 meno Anche lui Casale 6 De Paoli 6 meno Tamese 6 e mezzo Veloso 6 più Lazovic 6 e mezzo Barak 7 Caprari 6 e mezzo Simeone 6 più Per il rigore No Però diamo 6 più Faraoni 6 più Kalinic 6 e mezzo Lasagna 6 Bessa 6 più Coppola 6 Voto a Tudor 6 e mezzo Questa è la mia Analisi della partita Adesso vedremo Come andrà il calciomercato Vedremo quali saranno le situazioni Che il Verona seguirà Anche Casale C'è una prece Onestamente Poi Verò anche che è un giocatore Che è venuto fuori Un po' tipo Un po' tipo Lovato Ma anche meno Nel senso che ha fatto 3, 4, 5 partite buone Non hai neanche fatto in tempo A gustartelo Subito si parla Di calciomercato Io vi ripeto Se fossi nel Verona Strieger Larsen Me lo porto a casa Adesso non so con De Paoli Se sei già andato su di lui Se hai ancora i margini Però Vi invito Chiudo questo video Con un invito Alla riflessione Prendevi Strieger Larsen Ti portavi a casa Stanno adesso Stanno sinistro Il leader difensivo Caro salute